Buongiorno e benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di Telestense Diverse, le notizie di cronaca tra cui l'inseguimento alle prime ore di oggi all'alba in corso Giovecca dove un giovane è fuggito dalla polizia e dai carabinieri che in diverse pattuglie lo hanno inseguito, sentiremo le motivazioni di questo episodio di cronaca a breve nel telegiornale ma parleremo anche della nuova ordinanza emessa dal comune di Ferrara riguardo al divieto di dare cibo ai piccioni in centro a Ferrara per cercare di preservare il decoro urbano e anche le condizioni igieniche e minime in certi punti della città ma il comune intanto ha anche deliberato nuovi fondi alle aziende del centro in particolare per le nuove attività che verranno avviate 150 mila euro il pacchetto di fondi di risorse a fondo perduto per queste attività commerciali ma intanto sono giorni questi dove Credem e Biper stanno dando i risultati preliminari del 2021 ci sono novità importanti anche per gli azionisti perché sono state emesse le quotazioni delle azioni di queste banche di cui fanno parte la ex Carife, la ex Caricento ma ovviamente non possiamo non parlare di situazione coronavirus siamo in attesa dei dati odierni ma è arrivata a Ferrara la pillola anti-covid un nuovo farmaco molto importante per curare le persone affette da coronavirus in forma lieve o moderata Ferrara poi è il centro di riferimento per il commissario nazionale per l'elargizione di questi farmaci a tutta l'Emilia Romagna sentiremo appunto perché è importante ma dobbiamo aprire con la cronaca questa edizione perché non accenna a diminuire il fenomeno delle truffe nei confronti degli anziani sul territorio ferrarese due gli episodi in cui sono intervenuti i carabinieri ieri pomeriggio due persone si sono presentate a casa di un 79enne residente a Cento in via Sardegna dopo essere entrati in casa con la classica scusa del gas che rovina l'oro i due uomini hanno consigliato all'anziano di riporre tutti i preziosi nel frise nel congelatore insomma qui sono riusciti a raccogliere il bottino non ancora quantificato e non è neanche assicurato questi gioielli non lo erano e quindi si sono dati alla fuga i due uomini e l'uomo e l'anziano non ha potuto fare altro che avvertire i militari della città del Guercino che ora sono sulle tracce di questi due truffatori truffatori in azione sempre nel pomeriggio di ieri e anche a Ferrara in via Argenta dove finti dipendenti di un'azienda gas e acqua avrebbero tentato di entrare in casa di una 85enne che però non si è fidata non si è fatta raggirare e ha avvertito subito i carabinieri. Parleremo di cronaca a breve ma prima parliamo dello stato di esitazione per i lavoratori di CGL, UIL, delle poste di Ferrara e di tutta l'Emilia Romagna tra i motivi per cui sono entrati in stato di agitazione i sindacati ci sarebbero anche episodi di violenza verbale nei confronti di chi lavora denunciano i sindacati CGL, UIL ma sentiamo Organici del personale carenti e precari, lavoro oltranza per lunghe code, intolleranza e violenza verbale nei confronti di chi lavora, questi motivi che hanno indotto CGL, UIL a far scattare lo stato di agitazione con sciopero dello straordinario per tutti gli addetti di poste italiane S.P.A. a Ferrara in Emilia Romagna A livello territoriale S.L.C.C.G.L. e UIL poste terranno assemblee nei luoghi di lavoro Lo sciopero proseguirà anche nei prossimi mesi nel caso l'azienda non ci darà risposta all'altezza della situazione dichiara Ida Mantovani, segretaria provinciale S.L.C.C.G.L. Sindacati che da mesi denuncierebbero forti criticità presenti negli uffici postali Il venir meno di una corretta erogazione del servizio postale avrebbe inclinato poi i rapporti con la cittadinanza sostengono CGL e UIL In alcuni uffici postali si assisterebbe quotidianamente, dicono i sindacati a episodi di intolleranza e di violenza verbale nei confronti degli addetti che si risolverebbero solo grazie agli interventi delle forze dell'ordine Per queste e altre ragioni i sindacati hanno così indetto lo stato di agitazione con sciopero dello straordinario fino al prossimo primo marzo Ancora cronaca come abbiamo visto da queste immagini il Viale Cavour e Corso Giovecca sono state il teatro dell'inseguimento in centro di questa mattina alle 5 quando alcune pattuglie dei carabinieri e della polizia hanno inseguito un'auto che alla vista dei militari in Corso Giovecca si era data alla fuga a bordo un 19enne ferrarese con patente di guida ritirata a gennaio scorso per gravi violazioni al codice della strada l'auto, una Peugeot 208 condotta appunto dal giovane è stata poi bloccata in via Boiardo a Ferrara giovane poi sanzionato quando è stato fermato e l'auto è stata sequestrata dalle forze dell'ordine e come detto in apertura è stata emessa ieri un'ordinanza molto particolare a Ferrara in centro a Ferrara non si potrà dare cibo ai piccioni è quanto prevede la nuova ordinanza del comune di Ferrara a firma del sindaco Lanfabri con cui si vieta la somministrazione di mangime e di alimentazione ai piccioni nel centro storico e vengono così istituite misure preventive contro la nidificazione dei volatili di vieto di gettare sul suolo pubblico granagli e scarti di avanzi alimentari riporta l'ordinanza con cui insieme ad altri interventi mirati messi in campo dal comune come l'installazione di dispositivi dissuasori come in Galleria Matteotti si vuole cercare di arginare il fenomeno di proliferazione dei piccioni oltre alla riduzione dell'impatto sul decoro urbano si vorrebbero anche evitare gli effetti negativi di carattere igienico-sanitario dicono dal comune il rischio per chi venisse scoperto a dar cibo ai piccioni potrebbe essere quello di una sanzione amministrativa pecuniaria e dal comune di Ferrara intanto saranno elargiti 150.000 euro a fondo perduto per sostegno a imprese e dare così incentivi agli avvii di nuove attività l'intesa è avvenuta con la Camera di Commercio fino quindi a 10.000 euro a fondo perduto per chi apre una nuova attività in centro bisogna però rientrare in certe categorie sentiamo quali Nuovo pacchetto di sosteni comunali alle imprese ferraresi e incentivi allo sviluppo e alle nuove aperture di attività dopo i sei bandi anticrisi in epoca pandemica per circa 2 milioni di euro finanziati con risorse dell'ente il comune di Ferrara come spiega il sindaco Alan Fabri la giunta ha deliberato martedì 150.000 euro destinati a botteghe storiche imprese del commercio non alimentare e dell'artigianato presenti nel centro storico nell'area UNESCO all'interno delle mura chi rientra in queste categorie può ottenere fino a 5.000 euro per l'intervento di riqualificazione, ristrutturazione e ampliamento delle strutture e fino a 10.000 euro invece per l'apertura di nuove localizzazioni produttive sono ammissibili i progetti che prevedano un investimento minimo di 2.000 euro a beneficiarne potranno essere le cosiddette microimprese i fondi saranno gestiti dalla Camera di Commercio con una convenzione e bandi disponibili saranno dall'inizio di marzo comune che promette altre iniziative di questo tipo prossimamente e per Paolo Goponi, commissario straordinario della Camera di Commercio ci impegneremo con determinazione, responsabilità e con i tempi che le imprese ci chiedono per affrontare ancora questa fase rimaniamo in ambito economico il consiglio di amministrazione di Credem Holding preseduto da Lucio Igino Zanon di Valgiurata che vedete in foto, società che controlla il 77,55% del capitale di credito Emiliano S.P.A. ha approvato i risultati preliminari ricordiamo che in Credem fa parte dell'ex caricento di questa galassia di gruppi bancari loro appunto hanno approvato l'altro giorno i risultati individuali e consolidati preliminari dell'anno scorso società che nel dettaglio ha registrato a fine 2021 un utile consolidato di 270,4 milioni di euro in progresso del 70,5% rispetto ai 158,6 milioni di euro del 2020 il risultato ovviamente è stato influenzato in particolare dagli effetti positivi registrati dalla controllata Credem che ha contabilizzato così la fusione per incorporazione appunto della cassa di risparmio di 100 ed è quindi il gruppo Credem Holding prevede la distribuzione di un dividendo pari a 3 euro per azione in crescita del 50% rispetto all'anno scorso anche Biper, l'altra banca di cui fa parte l'ex carife ha presentato i risultati preliminari che sentiremo nel corso delle prossime edizioni del telegiornale cambiamo adesso totalmente argomento dobbiamo passare alla sanità siamo in attesa dei dati odierni del nuovo bollettino e vedremo se il trend della diminuzione dei dati dei nuovi contagi è confermato anche in questo bollettino odierno ma sentiremo a breve i dati riferiti al bollettino emesso ieri in cui alcuni parametri risultano abbastanza incoraggianti per il futuro ma c'è un'arma in più in regione, anche a Ferrara per trattare chi si è ammalato di coronavirus in forma lieve o moderata al via la somministrazione della cosiddetta pillola anticovid sentiamo Ferrara è la base di riferimento dell'Emilia Romagna per la consegna da parte della struttura commissariale della pillola anticovid di Pfizer autorizzata nelle scorse settimane dall'Agenzia Italiana del Farmaco stiamo parlando del Paxlovid al via in regione le somministrazioni già più di 1200 le confezioni consegnate per altrettanti trattamenti Ferrara ha a disposizione 84 confezioni il farmaco si aggiunge ad altre terapie già in uso nelle strutture sanitarie come gli antivirali Remdevisir e l'anticorpo monoclonale Sotrovimab confidiamo in questa nuova terapia per i pazienti meno gravi sottolinea l'assessore regionale alle politiche per la salute Raffaele Donini l'antivirale Paxlovid come spiega l'AIFA è indicato per il trattamento per la durata di 5 giorni di pazienti adulti con infezione recente da SARS-CoV-2 con malattia lieve moderata pazienti che non hanno bisogno di ossigenoterapia e con condizioni cliniche concomitanti che rappresentino specifici fattori di rischio per lo sviluppo di Covid-19 severo continuano intanto a diminuire i nuovi casi in 24 ore nel ferrarese stesso lasso di tempo in cui rimane alto il dato dei nuovi guariti 262 nuovi casi e quasi 1500 nuovi guariti la pressione ospedaliera rimane stabile sul territorio ferrarese diminuisce a Cona ma cresce leggermente sulle ospedali Covid della provincia 127 le persone al Sant'Anna 73 ricoverate al Delta e 51 a 110 posti occupati in rianimazione Covid in territori estense due decessi due uomini di 79 e 81 anni di Lago Santo e Ferrara l'aggiornamento in Emilia Romagna registra più di 4.500 casi oltre 13.000 nuovi guariti e più di 8.500 casi attivi in meno ricoveri in calo in tutta la regione dove però si registrano 32 nuovi decessi capitolo vaccini nel ferrarese più di 1.500 le dosi somministrate lunedì che hanno fatto salire a oltre 296.000 le prime dosi più di 282.000 le seconde dosi e quasi 200.000 le dosi addizionali totali somministrate e andiamo adesso in provincia di Ferrara per continuare a parlare di PNRR di come i comuni stanno gestendo queste risorse l'area Maceri e la discarica di Molino Boschetti sono due dei quattro siti contaminati nel ferrarese che verranno bonificati con i soldi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza siamo nel comune di Terre del Reno comune dove sono collocate queste due aree comune che è al lavoro per altri progetti da presentare come ad esempio la ciclovia ne abbiamo parlato con il sindaco di Terre del Reno Roberto Lodi che sottolinea anche le difficoltà per i piccoli comuni per accedere ai fondi del PNRR sentiamo sindaco nel comune di Terre del Reno ci sono due dei quattro siti contaminati nel ferrarese che verranno bonificati con i soldi del PNRR di quali aree stiamo parlando? stiamo parlando di due aree una è notoriamente famosa in quanto è la discarica di Molino Boschetti che è quella sovracomunale che comprendeva diversi comuni Paracicento, Castel d'Argile eccetera per cui è una discarica di ampia rilevanza sovracomunale mentre invece l'altra sono i famigerati maceri di Dossi sono stato per i tempici quale c'è un contenzioso in atto e quindi grazie alla collaborazione dell'Agenzia regionale abbiamo chiesto l'accesso a fondi per poterlo bonificare cosa che si sono stati concessi quindi adesso cominciamo il percorso per capire che cosa dobbiamo fare la progettazione per poi rendere operative queste due bonifici ovviamente una è molto più importante perché riguarda una discarica molto vasta a cui hanno conferito per anni tanti comuni l'altra invece è personale quindi è una cosa un po' più ridotta forse più facile da gestire per quanto riguarda il PNRR a quali altri progetti sta lavorando la sua amministrazione? ma principalmente siccome ho fatto anche verifiche perché la materia è molto complicata e controversa quindi è notorio che in questa fase i progetti delle singole amministrazioni rischiano incestivi quindi stiamo lavorando in collaborazione con la provincia di Ferrara principalmente sul progetto delle ciclabili quindi abbiamo già presentato in accordo con il Presidente e il Neopresidente della provincia di Ferrara la nostra scheda progettuale che è la cittoria dell'Alto Ferrarese di cui io sono capofila e quindi comprende tutti i comuni dell'Alto Ferrarese da Cento a Ligarana un metodo di elencarli e prevede chiaramente il collegamento con le province di Bologna e anche Modena perché è Bondeno verso Mirandola quindi diciamo un collegamento ideale fra l'Avento e la Sole ecco le chiedo si sente parlare spesso della messa a terra dei progetti per il PNRR spieghiamo ai cittadini che cosa significa se è possibile in pochissime parole pochissime parole difficili ma la sintetizzo con estrema razio occorre capire in questo momento chi farà che cosa perché ad esempio noi abbiamo presentato la scheda ovviamente la scheda sarà valutata se è ammissibile chiaramente riceveremo l'indicazione di procedere progettualmente quindi ergo chi farà i progetti è chiaro che in questo caso abbiamo chiaramente già un masterplan con uno studio di fattibilità alias progetto preliminare quindi si tratterà di rendere definitivo esecutivo il progetto è chiaro che per progetti siccome come dicevo prima non sono previsti i progetti dei singoli comuni ma di aree vaste è chiaro che bisognerà fare sintesi e lo stiamo facendo con la provincia di Ferrara per presentare dei progetti che poi possano essere realmente finanziati ma soprattutto progettati stiamo cercando di capire con quali mezzi e soprattutto con quali uffici poterlo fare visto che i piccoli comuni chiaramente non hanno la possibilità di fare progetti di così larga scala quindi queste sono praticamente le criticità che lei sta individuando? sono le criticità diciamo che sono comuni a tutti i nomi abbiamo già partecipato a diverse conventione e unioni e sono il problema di tutti stiamo cercando di capire come fare a progettare e chi li farà per portare a casa i soldi ieri era la giornata mondiale contro la tratta abbiamo fatto un approfondimento nel telegiornale le vittime di tratta nel mondo sono più di 40 milioni per il 72% sono giovani donne per il 23% sono minori la maggior parte delle donne sono costrette alla prostituzione quasi il 60% il resto al lavoro forzato in Italia le più colpite sono le nigeriane ma ci sono anche giovani donne albanesi e rumene insieme alle persone transessuali in occasione di questa giornata mondiale contro la tratta padre Mario Ghezzi il direttore del centro PIME è già missionario in Cambogia per 17 anni in collaborazione con la Carita Sanbrosiana Manitese e l'Unione Cattolica Stampa Italiana della Lombardia promuove anche quest'anno un momento di riflessione di ascolto, di testimonianze sulle condizioni di vita aggravate dalla pandemia di queste giovani donne costrette a prostituirsi sulla strada in questi due anni spesso relegate al chiuso dove hanno avuto ancora maggiore difficoltà a chiedere aiuto l'incontro che ha come titolo nuovi schiavi sempre più poveri e vulnerabili vede come rendatore diversi rappresentanti di istituzioni cattoliche impegnate a contrastare il fenomeno della tratta sottraendo ai racket le donne che ne sono vittime private completamente della libertà in epoca di pandemia segregate in luoghi inaccessibili alla vista e al controllo da sottolineare la testimonianza di Joy Ezechiel autrice con Maria Pia Bonanate di Io sono Joy la storia di una ragazza nigeriana entrata ingenuamente grazie anche all'inganno di falsi amici nel traffico degli esseri umani e quasi miracolosamente sfuggita una volta arrivata in Italia ai suoi aguzzini per l'intervento di alcune suore rossoline che a Caserta hanno creato un centro Casarut per istituire dignità e vita a queste ragazze di Joy potete conoscere la storia attraverso l'articolo pubblicato nel nostro telegiornale il 14 novembre scorso e sulla voce di Ferrara della seconda settimana di novembre e con questo è tutto grazie per l'attenzione e vi auguro una buona giornata grazie per la visione